Ben ritrovati con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di domenica 17 marzo. Cielo in prevalenza nuvoloso con maggiori possibilità di schiarite anche sulle Alpi e sulla costa. Sulla fascia prealpina nel pomeriggio è possibile qualche pioggia sparsa che dalla sera interesserà anche il resto della montagna e la pianura. Quota neve sui 1600 metri circa e sulla costa soffierà scirocco moderato. Le temperature. Sulla costa 9-12 gradi di minima, 12-15 gradi di massima. In pianura 7-10 gradi di minima, 13-16 gradi di massima. A 1000 metri 5 gradi e a 2000 metri 2 gradi. Una rivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani. Grazie.